Quattro truffe in una mattina, un bottino da 25 mila euro e tra le vittime anche un novantenne. Colpisce ancora la banda dell'incidente stradale, malviventi con finte telefonate ad anziani che si spacciano per carabinieri e cercano di estorcere i loro soldi dicendo che il figlio, uno stretto congiunto, ne ha bisogno per non finire in carcere. Gli ultimi episodi sono avvenuti nella mattinata di venerdì tutti in Val D'Arno, tra Castelnuovo dei Sabbioni, Bucine, Levane e Loro Ciuffenna. Prima una telefonata che annuncia da parte di un sedicente carabiniere di un incidente stradale di un congiunto dell'anziano. Niente che dovesse preoccupare perché poteva provvedere l'assicurazione ma servivano con tanti subito altrimenti il congiunto sarebbe finito in galera. Dopo la paura la soluzione illustrata è la ricerca di somme. Al portone degli anziani si presentava poi un complice, un finto avvocato, che telefona alla mano, fa finta di chiamare i carabinieri. Dall'altro capo invece il complice, ovvero quello che pochi minuti prima aveva finto di essere un carabiniere che ha rassicurato di nuovo le vittime. Nel primo caso di quelli che si sono verificati il bottino è di 6.800 euro, nel secondo altri 6.000, nel terzo 6.500 e nel quarto 5.000. Uno degli anziani truffati ha consegnato ai malviventi oltre ai soldi gioielli posseduti e così il bottino stimato arriva intorno a 25.000 euro. I carabinieri adesso stanno indagando su questo tipo di truffe.